30 di giorni vi porterò sullo spazio Benvenuti in un nuovo video Innanzitutto iscrivetevi al canale Attivate la campanella E mettete un mi piace E lasciate un commento Oggi tacchi dove siamo? Oggi siamo a sesto pista Tanto per cambiare Giriamo? No Sì, giriamo un video Giriamo un video? E che video giriamo? Un video che vi servirà per capire Cosa faremo il 30 di giugno Quindi rimanete con noi Perché scoprirete cosa faremo il 30 di giugno E ora ci spostiamo E ora ci spostiamo Perché ci ammazzano, ci ammazzano, ci ammazzano Questo è il bacchestace di quello che si sta facendo Ora vi faccio vedere anche chi c'è in attesa di farsi fotografare E ora torniamo a vedere i tacchi che lavora Tacchi recista, i tacchi recista oggi ragazzi Ora i tacchi lo investono I tacchi lo investono Vada per il secondo esemplare Andiamo a vedere un po' di mezzi Sembra il parcheggio di scuola mia Come sono queste moto? Quanto sono belle Un tacchi innamorato Nemmeno fossero Mi sto piegando, mi fa ridere, mi fa tuebolo Ci abbiamo anche un ospite speciale No Infatti sto girando di là Mettiti Guarda dove è la luna Non me la tiro su perché sto schiattando ragazzi Vai mettiti qui dietro che a me non si dia Ti farà mirando Oh no Vai Donna da ATM in piedi su quella Quella in piedi così Sì a me lo riparto Non ci salve Vai monta Non è facile ho quella tuta Io come voi Io sono qui per fare quello che dite Vai anche senza salire Io sono qui per fare Di sicuro è il pizza taxi più veloce ci sia Se sono utili la faccio Anche senza stare a salire Giù sta appoggiata un attimo Qui si fanno le cose importanti Si sta a chiacchiere capito Cioè io si sto a chiacchiere Loro lavorano Guardate come lavora i tacchi Attenzione c'è un intruso C'è un intruso C'è un intruso Io ci devo sempre essere Oh Vi aspettiamo E' intruso adesso io Vai Vale Levala vai Sandro Ora un amore di moto Di cui ero innamorato dal ragazzetto E' tutto E' la tuta Vero Gabriele Tacchi com'è sta moto Tacchi com'è sta moto Che brutto è sta moto Mamma mia A posto Secondo round di riprese E' la mati dopo Certo E qua c'è quelli che aspettano Aspettano Ma come sono sta moto Brute Va che caldo Va che caldo però sono un po' i tuoi colleghi Della Motter Valley Va che caldo Ma io sono modenese Ah si sentiva infatti Babbo modenese E io sono un po' di parte Oh questa è un'abbinatissima guarda Ma guarda che è rosa sulle moto Che sta bene da 10 a 30 Io voglio la moto rosa Ma possiamo fare magari rosa Io voglio la moto rosa Ho le finiture nere E che cavolo Che spettacolo Bello sto 125 Un po' più 125 De 125 Secondo me è un po' truccata Poi boh Non lo so Cioè la stella sarà a mille gradi Ti sappicci che culo E siamo a maggio Oh ti giuro Non si dà una mano Guarda a me Che mi arrivo La L'ha scritta questa C'è una baguette Che vuol dire? C'è una baguette Ah è la traduzione Sì 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 Non proprio la traduzione Si immagino che non sia facile Trovare la giusta Però in realtà il gruppo in sé Si chiama il gruppo dei soffiatori Soffiatori? Perché in cinese Uno che soffia Vuol dire che uno Se la tira Uno che si soffia C'è tra amici Si chiara le cazzate no? Non c'è la moto più bella della tua Così Ah soffiare molti Perché che ti coni Bravo Sì Quello che si È quello che si È quello di i grupponi Il gruppo dei soffiatori Fattato I soffiatori Uno e soffia Sì Yeeeh Ora si fa le scene Con le moto in movimento E che scene verranno fuori No Boh chi lo sa Roba da film Con Thomas Cruise Ah sì Pensavo più alla Quentin Tarantello Mmm Ora arrivano Guardate i motini Passano ora Io so sempre qui A fare i bacchestaci Bello girare in pista A magliettina Tanta roba Con questo caldo Casco sempre ben allacciato Luce accesa anche di giorno E prudenza Sempre Nessuno ha parlato di ciubbotti Sino fa un certo stile Sino fa un certo stile Usa una marcia sola In questo momento Il Taki sta chiamando tutta la flotta Taki un commento Che figata Sino fa un certo stile Sino fa un certo stile Sino fa un certo stile bisogna dire che devono venire al kajiva dei 30 bene l'iscrizione si chiuderanno il primo di giugno volete esporre, portare, vedere questi splendori allora il 30 di giugno ci sarà il kajiva dei guarda che si fa l'annuncio allora check uno di 500.000 vai se ne fa un'altra vai va bene va bene ho già dimenticato cosa devo dire già la vediamo benissimo meglio parto vi aspettiamo al kajiva dei al mugello con queste altre moto il 30 giugno per esporre prenotare il giro in pista e partecipare vi lasciamo il link in descrizione a presto certo l'aba che queste moto moderne sono proprio belle sì però anche i 125 due tempi degli anni 90 tanta roba o come sarebbe ganso avercela a disposizione ora siamo qui con xavi siamo qui con saverio del kajiva dei il duca del kajiva dei grazie ragazzi abbiamo passato già una mattinata stupenda la vostra compagnia che ci aiuterete tra virgolette a far venire un evento quello del 30 di giugno che si sfoggerà in mugello che sarà il kajiva dei l'evento dedicato a tutte le due tempi e soprattutto di tutte le cilindrate e di tutto il tempo è statoato a tutti tutte le marche sta parlando di un evento nazionale chiamamolo perché bene o male c'è tantissimi ragazzi che vengono anche da fuori la Toscana e ci faccio tanto piacere di avere i nostri amici toscanacci come me che ci promuovono e ci danno tantissima visualità perché noi da Bon Toscani siamo una grande famiglia e una manda ai pazzi come si dice noi e noi si cerca di fare il possibile davvero di darvi una mano stamattina più che una mano ci avevi dato di molto gas e ci avevi fatto impazzire ci avevi fatto divertire facendoci fare delle cose che non si erano mai fatte io non posso altro che dirvi mille grazie descrizione le trovate sopra impressione sotto al link c'è la possibilità di fare due tipologie la mostra statica che è un biglietto che si chiama silver la mostra comprensiva di due giri di parata presso l'autodromo del Mugello ricordatevi due giri in modalità parata vuol dire velocità ridotta godendosi il nostro autodromo il top del mondo l'autodromo del Mugello che si chiama gold e sotto il link trovate i prezzi e tutto vi aspettiamo numerosi a iscriverti al canale soprattutto perché almeno da lì vedete anche se non vedrete le varie evoluzioni di tutto il Kajivadee dall'aba tacchi e il duca direi che è tutto vi si saluta di brutto buona se è partito con 30 secondi di ritardo ma va bene una vita ragazzi quando uno non è abituato ad utenti succede anche questo ciao ciao ciao